Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Davi Bianco Celeste, oggi secondo episodio di questa nuova serie di FIFA 21, il primo è andato benissimo, vi ringrazio, abbiamo raggiunto subito 30 likes, anche 30 likes secondo me sono tanti, però li abbiamo raggiunti subito, quindi eccoci qua con il secondo episodio, mi raccomando un 25 mi piace per vedere il terzo e ragazzi come consigliato da più di voi, circa 4-5 nei commenti, oggi andremo a mettere Lionel Messi all'Inter, esperimento incredibile, già l'Inter punterebbe allo scudetto e secondo me con Lionel Messi è proprio da vincere, bisogna vincerlo, quindi senza perderci un chiacchiere andiamo subito a prendere il nostro Lionel Messi che poi metteremo a D, eccolo lì, contratto pure in scadenza, vediamo quanto costa tra i 104 e i 106, dovremmo riuscire a prenderlo che l'Inter ha tanto budget, poi ne ho aggiunto anche un po', andiamo subito a trattare, abbiamo ben 149 milioni, allora, andiamo a offrire per il cartellino, partiamo da una base fissa di 100 milioni, tanto ce li abbiamo i soldi, secondo me ci chiedono poco di più, potrebbero anche accettare, invece accettano così, soddisfatti, 100 milioni secchi per Lionel Messi, incredibile, andiamo subito a trattare, accettato la prima offerta, non hanno ribattuto, non hanno fatto contro offerte, dai dai, ruolo cruciale ovviamente, guardate che stipendio altissimo, mamma mia, due anni, perfetto, tanto ci serve solo un anno, ignoriamo la clausola, stipendio abbastanza alto, però accettiamo tutto, i soldi ce li abbiamo e via. Preso il Lionel Messi, ora andiamo a inserirlo nella formazione, eccoci, vabbè ragazzi mi dispiace ma devo togliere a Kimi perché Messi gioca qua, vado a prendere Messi ma non credo abbia anche altri ruoli, e non so, va bene a D lo mettiamo a D, qua, Messi, ah qua ci dice, se lo spostiamo qua, ok a D per forza, perfetto, a Kimi di là probabilmente non può giocare, aspetta, ES, 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 S, ok, vabbè forse ce lo mette però non è il suo ruolo, mettiamo Perisic che invece è il suo ruolo, sta anche diventando titolare in Inter, quindi questa ragazzi è la formazione, la panchina già è preparata e niente, io direi di non perderci in chiacchiere, andare a simulare tutto, eravamo rimasti anche con tanto budget, speriamo ragazzi, incredibile esperimento, ripeto, 25 live per il terzo episodio, andiamo fino a maggio, febbraio, marzo, aprile, maggio, eccoci, Urca, ultime due partite difficilissime, 23 maggio, Atalanta e 16 Milan, mamma mia, arriviamo fino al 25, iniziamo a simulare e niente, eccoci, eccoci, ci siamo, ragazzi, sono successe delle cose, io ho guardato solo l'ultimo mese, assurdo, assurdo, tanto avete visto la semifinale con l'Arsenal che abbiamo vinto, poi sconfitta con il Bologna, non ci credo, clamoroso, sconfitta anche col Milan, abbiamo perso il derby di ritorno 3 a 1, poi finale di Coppa Italia con la Lazio, vinto 0 a 1, vinto 0 a 2 con l'Atalanta e siamo in finale di Europa League con l'Atalanta, finale tutta italiana, clamoroso, quindi anche l'Atalanta è uscita dai gironi di Champions, forse, e andate in Europa League, mamma mia, delle cose assurde, assurde, ma non ci credo, sconfitta con il Milan e con il Bologna, non ci credo, non ci credo, assurdo, c'è la finale come il 54 di overall, no ragazzi mi sa che è andata male, mi sa che non è andata bene, tanto guardate i semifinali, mamma mia, l'Atalanta con il Villarreal, io voglio vedere prima la Coppa Italia che abbiamo vinto, siamo passati con il Cagliari, ma anche la Champions, perché finale con la Juve, c'è la Juve in finale, ha battuto il Liverpool, incredibile, ma non ci credo, siamo usciti dai gironi, quindi, mamma mia, che flop in Champions, però ora finale di Europa League, mamma mia, però ragazzi, ora di andare a vedere il campionato, 3-2-1, Serie A Team, oh, secondi, la Lazio, cosa, non ci credo, la Lazio, cosa è successo, mamma mia, cioè, ho fatto il primo episodio, Ronaldo e la Lazio, siamo arrivati i secondi, qua primi, sempre Lazio-Inter, interlazio, clamoroso, secondi, con 84 punti, mamma mia, Juve terza, Napoli quarto, Mila, Atalanta, Roma settima, ragazzi, mamma mia, incredibile, cosa è successo, vediamo la squadra, Lautaro è salito, Messi è sceso di uno, vabbè, Perisic infortunato, mamma mia, e tra un giorno abbiamo la finale di Europa League, clamoroso, secondi in campionato, mamma mia, andiamo a preparare la formazione, c'è Perisic infortunato, ragazzi, sostituiamolo con Sanchez, anzi, Hakimi, dai, con Hakimi, ma sono tutti stanchi, guardate dei frai, no, non ci credo, vabbè ragazzi, io la vado a giocare così, comunque non cambio la formazione, non ci credo, dai ragazzi, adesso sostituiamo automaticamente, dai, dai, facciamo, dai, simulazione veloce, se no avviene anche troppo lungo, vi prego ragazzi, no, abbiamo perso, pure con il rosso di Ilicic, Zapata, che cacchio, quindi l'Atalanta vince l'Europa League, che cavolo, sei tiri a quattro per noi, ma dai, quindi, secondo il campionato, perso il finale di Europa League e vinto la Coppa Italia, mamma mia, se vincevamo sia campionato che Europa League che Coppa Italia, siamo andati vicinissimi al mini triplete, mamma mia, che pioio assurdo, assurdo, mamma mia ragazzi, da non crederci, tanto ora caricherà il campionato, andiamo a vedere il capo cannoniere, Lukaku 22 gol e Messi 21, mamma mia, andiamo a vedere anche qua nelle statistiche, a Brosa, vediamo chi ha fatto di più, Lukaku 34 reti, che stagione per Lukaku, molto bene Messi anche con 15 assist, bene Lautaro, buon Perisic anche se poi si è infortunato, Nainggolan ha giocato, Eriksen, Vessino ha giocato tanto, Volitano ha giocato il Napoli, Brozovic, Brozovic, ma in 59 partite 3 gol, mamma mia, mamma mia ragazzi, assurdo, assurdo, episodio clamoroso, se volete altri episodi vi ricordo 25 like, scrivetemi qua sotto nei commenti che giocatore devo fare e in che squadra metterlo, datemi altri consigli e niente, io vi saluto, mamma mia, mamma mia, ciao ragazzi.